ecco voi autotomia è una di quelle parole che a noi ruote quadrate piace molto perché è una doppia sfumatura scientifica tecnica è una più umanistica in questo video vedremo sia il significato proprio letterale l'etimologia sia in scienza come viene utilizzata sia in letteratura quindi sfruttate i capitoli che vedete qui sotto per scegliere eventualmente la parte che vi interessa di più autotomia da autos se stesso e temno che significa tagliare quindi qualcosa che ha a che fare col tagliare se stessi vi è mai capitato di vedere le lucertole quando perdono la coda ecco quella esattamente l'autotomia nel mondo degli animali è piuttosto comune in realtà perdere una parte per sopravvivere poi rigenerarsi ogni tanto anche noi dobbiamo lasciar perdere alcuna parte lasciarle cadere come dei rami secchi e rinnovarci è una parola ricca che si presta in questo senso a un'ambivalenza e noi andremo a esplorarla un secondo ti sei iscritto al canale so che più o meno la metà di voi non sono iscritti al canale quindi fatelo per permetterci di arrivare ancora più lontano torniamo noi abbiamo detto che l'autotomia è la perda volontaria di una parte del corpo una porzione tentacoli arti addirittura le viscere e questo normalmente avviene sulla base di uno stimolo molto forte quando arriva un predatore che cerca di catturare l'animale il tentativo dell'animale è quello di far sì che il predatore si concentri sulla parte che perde e non sull'animale che scappa e questo si verifica in molti tipi di animali le lucertole è un esempio che probabilmente conosciamo tutti ma proviamo a vedere anche altri animali che utilizzano questa strategia furbetta per provare a sopravvivere io non sono un esperto di animali per cui se qualcuno di voi vuole puntualizzare e aggiungere qualcosa lo spazio dei commenti è lì apposta per voi cominciamo con i celenterati quegli animali radiali come i polpi le meduse i celenterati possono perdere alcuni tentacoli poi abbiamo gli echinodermi come le stelle marine essi possono perdere un braccio tranquillamente alcuni anche più segmenti e poi rigenerarli fanno parte degli echinodermi le oloturie quelli che noi chiamiamo cetrioli di mare che quasi non sembrano neanche animali per questo vengono definiti cetrioli ricordano il vegetale ecco ricordiamoci bene delle loturie perché torneranno a breve come protagoniste le oloturie sono in grado di espellere le loro viscere in circostanze in cui si sentono minacciate e poi col tempo rigenerano queste parti interne poi abbiamo anelli di come i lombrichi che perdono interi anelli porzioni possono addirittura separarsi a metà gli artropodi come i ragni per quanto riguarda gli animali della terraferma oppure i granchi anch'essi possono perdere delle zampe persino i molluschi possono perdere alcune porzioni se ci muoviamo verso animali più complessi con lo scheletro quelli che vengono chiamati vertebrati ecco che compare la famosissima lucertola e non solo la lucertola ma anche altri animali come i geichi simili alle lucertole sono in grado di fare esattamente la stessa cosa la codina staccata poi tende a muoversi in autonomia per parecchio tempo distraendo tipicamente il gatto o il predatore di turno per quanto riguarda i mammiferi invece non ci sono esempi noti di autotomia quantomeno non come l'abbiamo intesa finora cioè con la capacità volontaria di perdere delle parti di rigenerarle completamente il sole sta calando e spero che la lampada ci assista e che voi possiate godere contemporaneamente dello spettacolo e della spiegazione concludiamo la spiegazione scientifica con un ulteriore animale che ho individuato nelle brevi ricerche che ho effettuato sull'autotomia esiste una lumaca magari vi linko nella descrizione un video in proposito una lumaca di mare una lumaca d'acqua che è in grado di rigenerare praticamente il suo corpo totalmente a partire dalla testa quando il corpo pieno di parassiti essa lo taglia di netto di fronte a un caso diverso di autotomia non solo se ci si può liberare di alcune parti per sopravvivere ai predatori ma in questo è un caso in cui ci si libera totalmente tranne della propria essenza la testa e ci si rigenera a partire dal cuore ed è proprio qui che ci connettiamo alla parte umanistica del tema ho avuto l'opportunità di incontrare una poesia dedicata proprio all'oloturia e al concetto di autotomia è stata scritta dalla famosa poetessa sinproska spero di pronunciare correttamente il nome ma ad ogni modo potete trovare facilissimamente informazioni su di lei perché è una famosa poetessa polacca che ha vinto anche il nobel negli anni 90 l'oloturia si divide in due una parte la dà impasto al mondo come la lucerto la dà la coda impasto al gatto e con l'altra parte l'oloturia fugge ma da questa iniziale fuga riparte la vita e quindi qua vediamo continuamente il contrasto tra la vita e la morte a volte dobbiamo tagliar via alcuni pensieri parole abitudini anche persone per tenerci con l'altra parte quella ancorata alla vita in tutta la poesia vedrete questo confronto continuo tra la vita e la morte la luce e il buio rovina e salvezza passato e futuro concedetemi la spiegazione di un dettaglio perché lo trovo molto bello una citazione latina all'interno della poesia poeta latino orazio diceva non omnis moriar parlando di se stesso e della sua poesia perché a un certo punto lui riconosceva che lui sarebbe morto ma in una sorta di autotomia la poesia sarebbe sopravvissuta alla sua morte non omnis moriar significa non tutto morirà non tutto perirà non perirò del tutto la poetessa fa sua questa espressione di orazio e la sentirete verso la fine del testo vi leggerò ora il testo e vedrete scorrere delle immagini li ho registrate qualche giorno fa durante un evento di tedx tedx è una iniziativa internazionale molto bella in tutta italia esistono città che aderiscono a questa iniziativa e a queste conferenze ho conosciuto la poesia dell'autotomia in occasione di un evento organizzato da tedx varese per cui le immagini si riferiscono proprio a quello che ha deciso di fare qualcosa di diverso anziché una conferenza tutti seduti in un teatro ha portato il teatro nella nostra vita abbiamo percorso un tratto di strada insieme all'interno del bosco con delle cuffie nelle quali ascoltavamo la lettura commentata da parte di un attore sia del percorso fisico che facevamo sia del percorso che ha fatto l'umanità attraverso i millenni per giungere fino a noi dove qualcosa si è rotto nel nostro rapporto con l'ambiente vi lascio alla poesia e alle immagini del nostro cammino e ci ritroviamo dopo autotomia in caso di pericolo l'oloturia si divide in due da un sé impasto al mondo e con l'altro fugge si scende d'un colpo in rovina e salvezza in ammenda e premio in ciò che è stato e ciò che sarà nel mezzo del suo corpo si apre un abisso con due sponde subito e strane su una la morte sull'altra la vita qui la disperazione la la fiducia se esiste una bilancia a piatti immobili se c'è una giustizia eccola morire quanto necessario senza eccedere ricrescere quanto occorre da ciò che si è salvato già anche noi sappiamo dividerci in due ma solo in corpo e sussurro interrotto in corpo e poesia da un lato la gola il riso dall'altro un riso leggero di già soffocato quel cuore pesante la non omnis moriar tre piccole parole soltanto tre più metto un volo l'abisso non ci divide l'abisso circonda sono sicura che anche a voi questa poesia ha detto qualcosa e vi risuona in qualche modo sono curiosa di sapere qual è stata l'occasione nella vostra vita in cui avete lasciato andare qualcosa di siete rigenerati io stessa l'ho fatto più volte ed estate mi viene anche meglio vorrei riflettere con voi sul concetto di abisso nella poesia che abbiamo appena ascoltato compare due volte inizialmente quando l'oloturia si divide in due il verso dice nel mezzo del suo corpo si apre un abisso e questa è una cesura è un varco verso qualcosa di molto più grande e sconvolgente crea timore quasi e al termine della poesia invece dice l'abisso non ci divide l'abisso ci circonda e in questo punto finale sembra quasi un abbraccio l'abisso qualcosa di cui non avere così tanto timore ma adattarsi affidarsi riorganizza il rapporto tra noi e l'ambiente il concetto di onnipotenza probabilmente il nostro rapporto con l'ambiente va ripensato non solo un'autotomia degli animali o un'autotomia delle persone quando capiscono che devono lasciare andare una parte fisica o mentale di sé dobbiamo ripensare in termini di autotomia anche il nostro rapporto con l'ambiente qualcosa dobbiamo lasciare andare non siamo onnipotenti siamo solo potenti da grandi poteri derivano grandi responsabilità l'abisso che ci circonda è un abisso del quale ci nutriamo noi stessi la potenza simborosca parte da piccoli elementi quotidiani ci mette di fronte al rapporto dell'uomo come singolo e come società con l'ambiente con la natura aprire un'interpretazione della sua poesia a partire dal concetto di abisso è una mia interpretazione personale appunto a voi che cosa ha colpito di questa poesia cosa vi trasmette che rapporto con l'ambiente voleva suggerire la poetessa ultima chiamata iscritto ok a questo punto per continuare sulla natura vi lascio un video registrato quest'inverno sull'intelligenza della piante la neurobiologia delle piante oppure se preferite rimanere sul filo degli autori che hanno utilizzato concetti scientifici per parlare di società niente di meglio di flatlandia qui sotto ciao